Tiro alla fune al Palermo tra i tentativi di trattenere i cosiddetti big e l'arrivo di nuovi giocatori che completino la rosa a disposizione di Bruno Tedino. Valigie fatte per il ritiro rosa-nero di Badeklenkerheim che da domani vedrà i rosa riuniti per preparare la nuova stagione in Serie B. Sul fotofinish al primo acquisto Ingegneri si è unito anche il fantasista Igor Coronado che l'anno scorso non è riuscito a salvare il Trapani nonostante l'ottimo rendimento. Quasi tutto deciso anche per il centrocampista francese Eddie Gnauré, 23enne di proprietà del Napoli, che arriverebbe a titolo definitivo per un milione e mezzo con il club partenopeo pronto a garantirsi però il diritto di ricompra. Indirittura d'arrivo salvo complicazioni anche la pista a Rolando dalla Sampdoria, mentre piace sempre di più il regista slovacco Stanislav Lobotka dei danesi del North Sheerland, centrocampista centrale di qualità, molto bravo negli inserimenti e nel trattamento del pallone. Il DS Lupo però lavora su due veri e propri fronti di fuoco. La parola d'ordine è rinforzare, non ricostruire e per fare ciò bisogna trattenere i pezzi grossi. Rispoli, Nestorowski, Goldaniga sono tutte soluzioni buone per le alternative e per gli affari last minute in Serie A, dunque sarà fondamentale per i dirigenti, il rosa-nero, convincerli a restare. Pressing fortissimo del Milan sul baby fenomeno Simone Lofaso, difficile da trattenere se arrivasse l'offerta dei rossoneri. A giorni intanto prevista la riunione del nuovo CDA, dalla quale uscirà il nome del nuovo presidente del nuovo organigramma societario, rallentato dalle recenti perquisizioni della Guardia di Finanza, che hanno interessato non solo la sede sociale del club Albarbera, ma anche case e altri uffici di Maurizio Zamparini.